Allora vimba, con questa qui sentirai che ti spingerò un pochino posso dire che ti vanno ad andare indietro, tu provo non farlo No, 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 abbastanza veloce Ti viste i video? Sì, 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 è un sacco Ah, no Senti niente Ah, no, pensavo fosse molto peggio Allora vimba Oddio Può venirti giù la lacrivuccia, vai tutto normale Ui, finito, vi troppa lina Questo è per le lacrivucce, to? Grazie Oh no, non hai niente L'ho messo? Sto abitando, sì Ok Io direi di fare tipo 600 foto che qua ci sono un bel somiglia live Sì Grazie Tutto qua? Ma nonna, grazie E vedi il nostro secchio Sì Oh, non c'è niente Non c'è niente Ma nonna, grazie Poi si è di sicura che ti spiego la cura Ah, no E vi faccio un po' di scoccoli Beh, ma il bel è quello che c'è altro Ma non c'è frotta Ok Allora, no Mal